...cucina canta squadra e culinari team Mavellino, ritirate il vostro oro! Complimenti al team Mavellino, culinari team Mavellino, complimenti! Complimenti Alessandro, venivamo impeccabile! Domani recuperiamo tutto per i nostri post! Grazie a Marcello Sanna, una delle colonne delle nostre prevenzioni! Bravo, bravo! Io mi sposto dal fondo per andare accanto ai nostri precedenti! Lo so come io che faccio il giornalista, per Madrid! E abbiamo pure recuperato sulla padella di Marcello! Complimenti, complimenti! Cucina calda squadra! E domani ancora tante emozioni con la terza giornata dei campionati alla cucina italiana e le premiazioni conclusive! E poi il gran finale! Mercoletti! Grazie a tutti! A domani! Vuoi dire qualcosa? Prego! Volevo semplicemente dire una cosa! Pietro del Franco, non lo so se ci stai guardando, ma questa medaglia va anche a te! E ne porteremo un pezzettino! In bocca al gruppo per tutto! Una dedica! Una dedica speciale! Bravissimi! Culinari team Mavellino! Oro! Cucino canta squadra di oggi! Bravissimi! A domani! Grazie a tutti!